L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito nella notte otto obiettivi terroristici a Gaza. I rappresentanti di Hamas e Fatah si vedranno domani a Mosca per discutere della formazione di un governo e della ricostruzione di Gaza. Fumato l'accordo per il cessato del fuoco temporaneo nella striscia di Gaza e rilascio degli ostaggi. Hamas avrebbe giudicato troppo esiguo il numero di prigionieri palestinesi che il governo di Tel Aviv sarebbe disposto a rilasciare in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi israeliani. Morti sul lavoro. Oggi la procura della Repubblica di Torino ha disposto cinque rinvie giudizio per il crollo della gru nel cantiere che a dicembre 2022 costò la vita a tre operai. Gli imputati sono dirigenti e tecnici di aziende che si occupavano dei lavori. Giustizia per le morti bianche e il grido che si alza anche da Firenze dopo la tragedia che ha ucciso cinque operai nel cantiere in costruzione. Tra loro il 43enne Tofika Yaidar che risiedeva in provincia di Perugia. L'inviato della Repubblica Popolare Cinese, Luiui, per l'Ucraina sarà in visita in Europa a partire da sabato. Si regherà in Russia, in Ucraina e a Bruxelles, oltre che in Germania, Polonia e Francia, per favorire una soluzione politica del confronto tra Mosca e Kiev. Il generale Vannacci è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi. Il procedimento disciplinare avviato dal Ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro Il mondo al contrario ha evidenziato la carenza di senso di responsabilità legata alla vicenda che lo vede indagato per peculato e truffa ai danni dello Stato e ha anche, in riferimento all'inchiesta su istigazione e odio razziale, possibili effetti emulativi. Il commento di Salvini, siamo al ridicolo. Il generale scrittore vado avanti.